Ciao e benvenuto sul canale YouTube di Scattaimpara. Se è la prima volta che giungi in questo canale e vuoi sapere qualcosa in più, ecco alcune info. L'obiettivo principale di Scattaimpara è realizzare dei tutorial e condividere delle informazioni sulla fotografia e sulla postproduzione, creando quindi una rete di interazione su queste tematiche. Potrai trovare dei video semplici ed efficaci dove presenterò tecniche di postproduzione e consigli fotografici e risponderò alle tue domande. Inoltre potrai trovare soprattutto nel sito corsi e tutorial più approfonditi o ebook come questo, che trattano dei temi specifici e ti permettono di avere uno strumento che ti guida passo passo su operazioni complesse o come in questo caso al ritocco in Lightroom. Vuoi un consiglio? Navica nel canale e scopri il sito www.scattaimpara.it. Tieni ti aggiornato e iscriviti a questo canale con un bel bottone che farà apparire qua da qualche parte. Il mio obiettivo è fare qualcosa di utile, quindi non esitare a postare le tue domande e i tuoi commenti nei miei video e nel canale. Grazie e ci vediamo nei vari video. Ciao!